Siamo pronti per un super alt season nelle prossime settimane. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a mettere la nostra lente di ingrandimento e a fare le nostre analisi sulle altcoin. Che possibilità ci sono che nel prossimo futuro, nelle prossime settimane, si possa assistere ad una super alt season? Sono cosa dobbiamo guardare, quali sono i nuovi grafici che oggi portiamo per la prima volta sul canale, ragazzi. Andiamo a fare un po' tutta questa roba qui. Ma prima di andare avanti devo dirvi due cose fondamentali. La prima, come sempre, è iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi. E lasciatemi i pollicioni, perché se mi lasciate i pollicioni mi date una mano con YouTube. Ma poi mi fate sapere se vi piacciono meno questo tipo di video e quindi io posso renderizzare, diciamo, il mio operato. Poi, ragazzi, la seconda cosa molto, 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 molto importante è questa. Ho cambiato la struttura dell'analisi ciclica su Bitcoin, perché proprio questa mattina mi è venuta una... Ho capito, un'idea geniale. Come si chiama un'idea geniale? Quella proprio che entra nella testa, pum, che vi appare quando vi prendete il caffè e guardate l'orizzonte, così, verso il mare. Io qui però il mare non ce l'ho, ma è lo stesso, lo immagino. Mi è venuta un'idea e ho cambiato un po' l'analisi. Facciamo una cosa, ne ho parlato in Academy questa mattina, ma faccio un'analisi, proprio video, sulla nuova idea che mi è venuta in mente, che va un po' a sistemare quello che abbiamo detto nel video di lunedì e la pubblico sul mio canale Telegram, ovviamente in Academy, ma sarà pubblica anche sul canale Telegram, ma per tutti così riesco ad informarvi oggi, ragazzi, perché altrimenti non c'è modo, dovrei fare un altro video di analisi su YouTube, non è fattibile, quindi canale Telegram trovate il link in descrizione, potete iscrivervi gratuitamente, quindi non è a pagamento, troverete lì, più o meno fra un po' di... penso prima a dire la verità, ragazzi, questo video sarà pubblicato dopo, e quindi penso troverete lì questa nuova analisi, con questa nuova idea, perché cambia una cosa fondamentale su questa nuova idea e ho voglia di dirla in tempo, poi magari l'approfondiamo nel video di lunedì su YouTube, però, insomma, siccome sono momenti concitati, andate sul canale Telegram e vedetevi l'analisi. Oggi invece parliamo della possibilità che le altcoin possano andare a fare i boom 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 nelle prossime settimane. Che cosa dobbiamo andare a guardare? Allora, ci sono due cose da guardare più un grafico. Allora, la prima cosa importantissima è il superamento dei massimi storici di BTC, che, in virtù di questa nuova idea generale, perché non mi sono piaciuti degli atteggiamenti che ha avuto il mercato, quindi sono andato a correggere la mia view, ragazzi, come fa giustamente un analista. Non bisogna avere sempre ragione a tutti i costi, la cosa non funziona, il mercato dice non ci vado, ma andiamo a correggere il nostro tiro, il nostro arco, ok? Quindi ho fatto delle cosettine lì e quindi se BTC supera i massimi storici, a momenti dovrebbe farlo, secondo me, ragazzi, ci potrebbe riuscire. L'up season potrebbe essere innescata da questa super miccia, perché si creerebbe una super bull run poi di BTC. Ovviamente non mi immagino una bull run eccessiva con iperfomo, questa non lo immagino, ragazzi, però sicuramente è meglio prepararsi. E quindi le altcoin potrebbero seguire, sì, assolutamente sì, perché ci sono due livelli sulle altcoin che possono innescare anche quelli la miccia, ragazzi. E secondo me, prima parte BTC, come abbiamo già visto, ripetersi più volte questo tipo di discorso, e poi arrivano le altre, ma le altre doppiano. Questa è la questione, perché mentre BTC ci fa un più 10, un più 50, se le cose vanno bene, anche più 100, insomma, lo scorso ci ha deliziato con numeri esagerati, le altcoin però, ragazzi, le fanno per 2, per 3, per 4, perché sono più sottili. Sottili cosa significa? Sono meno capitalizzate di Bitcoin. Quindi se Bitcoin fa un più 50%, vuol dire mettere 400-500 miliardi di valorizzazione nella total market cap delle criptovalute, se lo fa un altcoin magari sono 200 milioni, ragazzi. La differenza è abnorme, ok? Perché poi, al di là della percentuale, c'è una questione legata al valore assoluto della capitalizzazione che si va ad aggiungere nel mercato. Quindi, interessante la questione di posizionarsi sulle altcoin, soprattutto su alcune. Abbiamo fatto un video top 5 in alcune situazioni, ma prima devono partire. Io non vado mai a comprare altcoin così, a cavolo, scusate il termine, senza che ci sia un'inversione di trend, l'avete capito, ve l'ho spiegato nel video della scorsa settimana. Quindi andiamo a vedere quali sono i grafici che possano indicarci la miccia. Perché se la miccia parte, allora è possibile a quel punto posizionarci sulle alt e magari andare a fare speculazione anche importante, perché lì veramente i numeri potrebbero essere notevoli. Allora, prima cosa, BTC deve superare i suoi massimi storici e innescare questo meccanismo. Seconda cosa, andiamo a guardare i grafici. Va bene ragazzi, allora, ci siamo. Primo grafico, la dominance, che vedremo oggi. Poi ve ne ho preparati altri due, già ve lo dico. Allora, la dominance dov'è? Che cosa sta facendo? Come da attese, se vi ricordate, tempo fa abbiamo analizzato questo grafico dove indicavo che la struttura ciclica annuale per la dominance BTC era a ribasso. Cosa significa? Che questo ciclo che è iniziato in questa zona qui deve terminare con un minimo inferiore. Ovviamente è stato tutto breccato, quindi è stata confermata questa view. E considerando che il 30 agosto del 2020 è iniziato questo ciclo annuale sulla dominance di Bitcoin, probabilmente è un ciclo che andrà a concludersi tra breve. Allora, la possibilità che si sia chiuso su questo minimo qui, cioè il 6 settimana del 6 settembre 2021. C'è? Sì ragazzi, c'è. Perché qui siamo a 371 giorni, quindi quasi un anno perfetto. e soprattutto, essendo questo un ciclo al ribasso, potrebbe essere stato un ciclo così costruito, vedete, 1, 2, 3, 4, e più corto dei precedenti, proprio perché è al ribasso. Allora, i cicli corti nella struttura dell'anasi ciclica sono più orientati alla trend estremamente ribassista, quindi la questione che Bitcoin possa iniziare un nuovo ciclo della dominance c'è, ragazzi. Però è un po' prematura la questione. Perché? Perché appunto è veramente corto, cioè non è un po' più corto dei precedenti, ma molto più corto dei precedenti. Quindi potrebbe, e potremmo assistere in pratica, a dei cicli di assestamento di questa struttura della dominance, a meno che Bitcoin non vada a rompere questo livello qui, ragazzi. In ogni caso, anche se BTC inizia un nuovo ciclo della dominance, probabilmente, insomma, le altcoin, ragazzi, seguiranno comunque e magari poi quando andrà a fare i primi livelli di close della dominance, quindi dopo magari la struttura di massimo, le altcoin potrebbero disegnare, in ogni caso, una nuova bull run, soprattutto nei mesi successivi. Allora, la prima cosa che vi dicevo nel video in questione è andare a vedere se BTC rompe i massimi storici, potrebbe farlo a breve. Seconda cosa, questo livello della dominance qui, questo livello 50 di dominance, se viene breccato, confermato in chiusura del ciclo settianale, inverte nel breve periodo, e anzi, medio, questo siamo su time frame weekly, quindi inverte nel medio periodo la dominance. A quel punto si innesca la bull run in maniera anche confermata rispetto a quello che stiamo dicendo solo alla rottura dei massimi, quindi BTC innescherà un nuovo ciclo di bull run, perché inizia un nuovo ciclo della dominance, quasi sicuramente, ragazzi, non è proprio certo, però è molto probabile se avviene un break dei 50-51% di dominance da parte di BTC. A quel punto le altcoin dovranno poi decidere se seguire in una successiva bull run o meno. Invece, se questo break non avviene e la break degli ATH di BTC corrisponde ad un recupero delle altcoin, la bull run potrebbe iniziare a brevissimo delle altcoin, parlo ragazzi, e quindi magari fare una struttura in questo modo e poi andare in chiusura qui. Allora, attenzione perché come tutti i punti di snodo, vedete, questa è una situazione estremamente delicata e quindi la dominance ci darà un'indicazione se in effetti conviene spostarci o meno sulle altcoin oppure aspettare Bitcoin e poi successivamente, fra uno o due mesi, spostarci sulle alt. Questo è il significato di questo grafico. Andiamo a vedere il grafico successivo che è la Total Market Cap senza Bitcoin, ragazzi. Poi andiamo a vedere invece due futures che sono quelli quotati su FTX e l'exchange che ha moltissimi futures, ragazzi, tra cui quelli delle altcoin che sono grafici che aggiungiamo nel nostro bagaglio, nelle nostre analisi. Perché? Perché proprio in questo contesto c'è un livello che adesso vi faccio vedere ed è fondamentale. Allora, FTX, vi lascio il link in descrizione per chi non ha questa exchange, è una buona alternativa a Binance, ne abbiamo parlato tantissimo, ragazzi, quindi link in descrizione, mi date una mano con i rep, ovviamente, e trovate tutti questi strumenti. Prima però andiamo ad analizzare quella che è la struttura della Total Market Cap senza Bitcoin, ragazzi. Total Market Cap senza Bitcoin, guardate il livello. Anche qui, come vi dicevo prima, siamo su un punto di snodo. Quindi se BTC spinge ed è TH, perché parliamoci chiaro, questa Total Market Cap, questo grafico, è fortemente dipendente da Ethereum. se Ethereum spinge sopra questo livello 1.45 trillion dollar, probabilmente assisteremo al break. Un break di questo livello della Total Market Cap senza BTC significa che le altcoin stanno iniziando una loro nuova fase di Burrana e possono fare grandi numeri tranquillamente, ragazzi. Quindi questa cosa va assolutamente vista. Quindi questo è l'altro grafico che dobbiamo guardare, il grafico che può darci la conferma se una nuova season può andare a innescarsi, quindi Dominance non deve superare un livello, se lo supera aspettiamo qualche mese. Bitcoin deve rompere gli ATH. Questo grafico deve crearci quel break di questo livello. terzo e ultima struttura, andiamo a guardare il grafico che vi ho promesso prima, quello presente su FTX, l'exchange FTX, togliamo il logo perché non va bene utilizzarlo con una linea retta, andiamo a vedere la questione. Allora, anche qui ragazzi, questo è un grafico daily, mettiamo il daily, altrimenti non si vede bene. Questo è un grafico dove possiamo andare a costruire delle operazioni di trading vere e proprie. Un grafico indicativo che possiamo anche tradare interamente, quindi questo future perpetual sulle altcoin index potete intanto tradarlo direttamente se volete magari avere un'esposizione alle altcoin che è leggermente smussata rispetto a quello che rispetto a quello che magari è la singola acquisto del singolo altcoin. Io vi dico francamente e preferisco bilanciare le due cose, preferisco utilizzare magari un index sulle altcoin in generale però mi piace di più fare crypto picking, lo chiamo così, quindi mi piace di più andare a trovare quelli che sono i miei progetti preferiti sulle altcoin perché ragazzi le altcoin sono molto speculative quindi bisogna saperci stare sopra. Questo è fondamentale, ve lo dico in maniera molto chiara. Ora, altcoin speculativa va bene l'index che andiamo a smussare però a volte non ha moltissimo senso quindi magari si potrebbe creare un ibrido quindi un portafoglio con questo index quindi un altcoin index più alcuni progetti. Che ne pensate? Questa è una bella idea, la facciamo insieme se volete, scrivetemelo nei commenti, facciamo così. Se vi piace questa idea proviamo a creare un portafoglio gratuito, free, qui sul canale, lo faremo insieme di altcoin misto, ok? Quindi con altcoin index più alcuni progetti. Vabbè, sarebbe carino da fare ragazzi. Viene un video di 50 minuti di un'ora albero. Va bene, andiamo a concludere il video. Allora, quali sono i segnali? Ragazzi, intatto questo index io preferisco usarlo sul time frame daily. Se volete scendere un pochettino, ok? Ma attenzione perché già se lo usiamo per esempio sul grafico orario ricordiamoci che è un derivato di criptovalute altcoin quindi il rumore delle indicazioni sarà notevole insomma, ok? Questo è un derivato ragazzi non è uno strumento come bitcoin non è uno strumento come un altcoin ma è un derivato quindi se scendiamo tantissimo il time frame troveremo molto rumore nell'operazione quindi solo ed esclusivamente magari non tanto per fare analisi ma magari per fare l'operazione di per sé magari scendete se avete necessità in base alla vostra strategia di trading come sempre non do consigli finanziari allora qui abbiamo il primo break indicato da questa trend line ragazzi e poi il livello più importante che è questo qui allora secondo me se il mercato in questione cioè se scusate il perpetuo in questione va a breccare questo livello che vediamo in rosso qui e inverte completamente il trend sulle altcoin e qui indica una conferma dell'inizio di una nuova fase di alt season quasi sicuramente ragazzi poi ci sarebbe l'ultimo livello da tenere a mente cioè questo livello qui che è un livello di massimo è giusto tenerlo a mente perché sicuramente qui le altcoin andranno a fare il doppio massimo però da un punto di vista di struttura del trend già sopra questo livello rosso e anzi cambiamo il colore altrimenti qui poi vi confondete che lo facciamo verde sopra questo livello rosso il trend che era stato prima ribassista ti inverte definitivamente perché qui abbiamo avuto un primo swing a rialzo una prima fase di bassista adesso se facciamo il break abbiamo il secondo swing a rialzo che rompendo i massimi precedenti va a invertire definitivamente il trend allora questo è il segnale io dal mio punto di vista ragazzi aspettare fino a qui le altcoin è troppo in là quello che farò è andare a guardare la dominance e gli ATH di BTC e poi questo livello di break su questo indicatore poi da qui in poi scusate il gioco di parole cercherò di posizionarmi sulle mie altcoin preferite utilizzando diverse strategie di trading in questo caso buy the gifts mischiato breakout e tante altre cosette che magari andremo a condividere nella academy bene ragazzi allora per oggi è tutto andatevi a vedere il video analisi che pubblicherò su Telegram ho già pubblicato perché questo video esce dopo e niente noi ci rivediamo nel prossimo video bull run delle altcoin possibile vi ho dato tutte le indicazioni aspettiamo e diamo al mercato il tempo di darci le risposte ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti